...che ci sono loro? Oddio, alcune dicono... Ah, io ne faccio meno! Illuse! Certo, in giro ce ne sono tanti, ma di un lempo... Lui, invece... Non so, prima mi sentivo spenta da quando c'è lui. La vita è ogni giorno più splendida, vero? Ah, vive la vie! Ma che ricerciostro! Vaporini e Vaporiglass sono solo ariete. Comoda la vita!